Un giro e mezzo alla conclusione per stabilire il titolare del mondiale Penso che alla frenata della curva 7-8 Dani cercherà l'attacco Ecco già l'attacco di Vargas Si prova Pedrosa su Marquez e ce l'ha fatta Signore ti prego Va largo Daniel Pedrosa Di nuovo spazio per Marquez Ma perché adesso fa la lotta? Perché? Aspetta un momento Ancora lì Crepa mostro Ma va al diavolo Un tempo pensavo che Dio aiutasse solo gli atleti professionisti e i vincitori dei Grammy Invece ho capito che aiuto anche i babbei come me